... Negli studi di TV City, Luca Chiuso, il segretario cittadino della CGL, in questi giorni la CGL, ma tutta la città di Torre del Greco, perde una grande persona. Enzo Porzio, un grande professionista, sempre disponibile e gentile con tutti, una persona per bene. Abbiamo visto sabato ai funerali, c'è stata una partecipazione con grande forza, perché hanno testimoniato la vera forza che quel mio caro compagno aveva, ha avuto e continuerà per noi ad avere, perché poi perdere un compagno, più che un compagno, un amico, e sapere la propria professionalità, perché capire il ruolo che Enzo svolgeva, guarda, non è da tutti. La professionalità in cui lui faceva le cose e con l'impegno e soprattutto anche nei nostri confronti, delle volte con rigidità, cercava di far capire che una cosa era l'amicizia e una cosa era il lavoro che lui svolgeva. Per quanti anni è stato funzionario della CGL? Enzo è stato assunto nel 1980, giù di lì, se voglio dire. Ha avuto un percorso tra Napoli, poi fu trasferito a Cavalleggeri da Osta. Su Torre del Greco noi avevamo un vuoto, eravamo la cenerentola di tutte le questioni che riguardavano padronato, informazione, sindacalizzazione, politica e quant'altro. In quel caso là venimmo a sapere di questo compagno che era di Torre del Greco e che stava a Cavalleggeri da Osta. In quel caso la facevamo una forzatura, se volete, nei confronti della CGL di Napoli, cercando di farci venire il compagno Enzo Porcia, ma non sapevamo ancora della sua professionalità. Però il nostro obiettivo era cercare di allargare il raggio di azione sul territorio. E stante per 1985, 85, 86, giù di lì, riuscimmo ad avere questa fortuna. E da lì è iniziato tutto il nostro percorso, perché poi da piccola cenerente alla quale era Torre del Greco, grazie all'impegno di Enzo che ha messo in gioco e metteva in gioco tutta la sua professionalità, si è incominciata ad allargare il raggio di azione. Tante battaglie sul territorio, ne ricordiamo qualcuna? Sì, ne ricordiamo tante. Ricordiamo la firma per il referendum che la CGL, i quattro si messi in campo, dove lui con grande forza riusciva a determinare le firme, a raccogliere firme e quant'altro. Ma poi sul piano politico la partecipazione delle iniziative che abbiamo fatto anche sull'ospedale Maresca, che tu ricordi. Ma tante di quelle iniziative, Enzo non era solo un punto di riferimento del patronato, ma era un punto di riferimento della CGL, della Camera del Lavoro di Torre del Greco, che grazie anche al lavoro che ha fatto lui, oggi siamo diventati la Camera del Lavoro di zona, cioè significa che abbiamo responsabilità politica iniziando da Torre Annunziata a finire a San Giorgio. C'è stato un impegno soprattutto suo che ci ha consentito oggi di camminare a testa alta e di dire professionalità, gentilezza, risolvere i problemi, portare avanti le questioni, riservatezza sugli atti. Sempre al servizio della gente, per anni nella sede di Via Martiri d'Africa. Abbiamo lavorato tantissimo a Martiri d'Africa, veramente con forza. Abbiamo avuto la fortuna, quattro anni fa, grazie a lui che ha voluto con forza pure questa cosa, tante persone invece insieme a noi a trovare una nuova struttura. Stiamo a Via Vittorio Veneta con tutta una serie di attrezzature, oggi all'avanguardia. Noi continueremo sicuramente con lo stesso lavoro, io sarò io, che imporrò a chiunque verrà di fare continuità rispetto a quello che Enzo faceva, solidarietà rispetto a quello che faceva Enzo. Tutte quelle cose che voglio dire alla fine oggi ci rendono tristi ma che dobbiamo affrontare con la vita. La grande partecipazione sabato ai funerali è il segno tangibile del tributo che non solo la Cigiele ma anche le autorità presenti sul territorio hanno voluto dare ad Enzo. Penso che è il minimo che potevano fare, è il minimo per un compagno che sottore del Greger realmente ed è per noi ancora rimane un punto di riferimento reale. Fare questa intervista a me costa moltissimo perché io ho l'esigenza di ricordarmelo in modo diverso. Cosa le mancherà di più dell'uomo e del professionista? Tutto, 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 tutto. Dopo le sei facevamo quella famosa riunione della giornata e ci incontravamo di più del meno e parlavamo delle questioni che si dovrebbero fare per incentivare di più la nostra organizzazione. Mentre discutavamo tutte le sere, manca a farlo apposta, alle sei un quarto veniva il solito dizio «Oh, signor Enzo, meno male che state qua, vi devo chiedere, Enzo, una santa pacienza». Diceva «Vabbè, ditemi perché stiamo parlando di cose serie, di cose dell'organizzazione». E tutte le sere era questa. Però posso dire che a me manca questa. Da domani in poi, voglio dire, alle sei, che faccio? Devo aiutere. Sicuramente ci saranno delle battaglie giornaliere per cercare di mantenere quell'equilibrio che lui e noi abbiamo costruito. Però ci dobbiamo, proprio per la sua memoria, ci dobbiamo credere. Tanto è vero, proprio per la sua memoria, io personalmente come responsabile territoriale, già ho chiesto alla Camera del Lavoro e alla CGL regionale di fare delle iniziative tese al ricordo del compagno, perché quando uno merita, a prescindere, merita, merita. Poi io mi domando sempre, ma come si fa questo? Ancora stavamo, discutavamo e dicevamo ma come è possibile che questo mi ha lasciato e se ne chiude?